Serhan Özlemetsk e la sua famiglia sono tra i 600.000 abitanti della provincia di Vann colpiti dal terremoto. Serhan, sua moglie e il loro bimbo di due anni vivono in una tenda come tante altre persone che hanno perso tutto. A Euronews ha raccontato di essere scampato tre volte a un terremoto. È il terzo terremoto in cui mi ritrovo coinvolto. Il primo fu quello di Ada Pazzari nel 1999, poi ci fu quello di Duzge, lo stesso anno e ora qui a Vann. Ad Ada Pazzari avvenne di notte. Fu svegliato dalla puntura di una zanzara e fuggì di casa. Fu quello a salvarmi. Quando il terremoto colpì Duzge, stavo lavorando in un edificio, eravamo in un centro commerciale per completare un lavoro. Questa volta eravamo al sesto piano e stavamo imbiancando. Non siamo riusciti a scappare quando il sisma è cominciato. Abbiamo aspettato che finisse. Queste persone sperano di non dover trascorrere in tenda il duro inverno di Vann, dove le temperature sono già vicine allo zero. Serhan vorrebbe raggiungere con la sua famiglia Ada Pazzari, sul Mar Nero, dove vivono alcuni suoi parenti.